salve a tutti signori io sono lorenzo e questo è il mio canale espertone benvenuti bene oggi di cosa andiamo a parlare andiamo a parlare di un caricabatterie molto particolare un caricabatterie che carica fino a 11 kilowatt carica fino a 11 kilowatt se abbiamo la presa da 400 volt a casa se non abbiamo la presa 400 volt si acquista l'adattatore con la presa sciucco e la presa qui 400 volt che poi andiamo collegare e carichiamo al massimo a 16 ampere 16 ampere per 220 volt 230 siamo intorno ai ai 3 kilowatt e 6 bene in questo caso qua andiamo caricare con questa potenza qua ma se avessimo una presa 400 volt significa moltiplicare il tutto per tre quindi se andiamo a mettere 16 ampere per 3 siamo 48 ampere per 230 volt andiamo circa 11 kilowatt di potenza la mia auto in questo caso una twingo carica fino a 22 kilowatt accetta la carica fino a 22 kilowatt di potenza bene allora andiamo a vedere il nostro prodotto prodotto poi andiamo collegarlo apriamo la nostra valigetta che abbiamo qui è una valigetta vedete possiamo portarle in giro dove vogliamo o metterla anche sul bagagliaio della nostra auto allora il prodotto si presenta così quindi abbiamo il nostro trasformatore con il display che poi andiamo a vedere e tutte le varie funzioni che poi andiamo a vedere dentro ci danno anche un astuccetto per metterlo dentro la nostra presa da 400 volt che andiamo già a collegarla al nostro adattatore lo metto qui lo aggancio e gioco è fatto qui c'è la presa asciucco che poi andiamo collegarla alla nostra presa in questo caso abbiamo il cavo che è molto lungo sono cinque metri di lunghezza e adesso in caso vi lascio qui in descrizione o scusate vi lascio qui andate a vedere c'è il sito da Aular che vi permette di scegliere vari dispositivi hanno molto prodotto tutto per la ricarica dell'auto elettrica questo è il sito che mi stavo parlando appunto non c'è solo dispositivo che vi sto mostrando io che questo che vedete qui ma ce ne sono molti altri quindi da quello con la ricarica wireless che possiamo vederlo anche vedete questo qua possiamo sempre monitorare cosa sta facendo e quindi tramite wifi riusciamo a gestirlo questo è sempre col 400 volt quindi caricabile fino a 11 kilowatt ce ne sono per tutte le auto e per tutti i tipi anche con gli attacchi da 220 volt anche con la ricarica massimo in 7 kilowatt logico che prima di collegare e di far qualsiasi collegamento ricordatevi far controllare l'impianto che deve essere la norma e che i cavi devono essere sezione adatta quindi anche non usate prolunghe non usate collegamenti strani con cavi molto bassi perché qui sono in gioco tensioni molto alte e soprattutto gli amperaggi sono elevati eccoci qua avete visto quanti accessori quanti prodotti ci sono qui abbiamo un attacco tipo 2 quindi valido per quasi tutte le auto abbiamo una copertura che va messa così se vogliamo chiuderlo perché non vado dentro sporco eccetera e poi abbiamo anche un attacco per il muro che possiamo agganciarlo quando abbiamo finito di ricaricare bene adesso colleghiamo il tutto eccoci qua come vedete io collego direttamente la presa sull'attacco sciucco sulla presa sciucco che abbiamo qui qui abbiamo messo il nostro salvavita e adesso l'abbiamo acceso eccoci qua abbiamo collegato appunto il nostro caricabatterie e lui cosa ci dice ci dice la tensione che abbiamo 233 volt 6 ampere e adesso lui mi dice che ho finito la carica avevo solo fatto una prova prima di qui posso andare a selezionare vedete 6 ampere 10 ampere o 16 ampere 6 10 13 e 16 ampere più su vado 2 ampere più assorbimento e adesso io vado a mettere di solito io carico sempre molto lentamente metto 10 ampere che sono 2 kilowatt e 2 di assorbimento e vedrete che adesso quando andiamo a collegarla lui parte e inizia col contatore da zero e anche quanti kilowatt sta inserendo dentro colleghiamo appunto il nostro attacco tipo 2 direttamente sulla presa qui adesso mi darà la luce verde che sta caricando fa varie letture e risentito attacca è partito e adesso andiamo a vedere come sta funzionando ecco vedete adesso lui sta caricando non sono proprio 10 ampere sono 9 virgola 4 225 volt è partito da 25 secondi e abbiamo comunque la temperatura e quanto tempo sta caricando e quanti kilowatt sta mettendo dentro beh ma andiamo a vedere tra un po come sta andando eccoci qua sono passati 14 minuti quindi abbiamo già caricato un po la nostra batteria come vedete abbiamo caricato 0,4 kilowatt ora e abbiamo la temperatura a 9 gradi esterna e questa sembra tensione eccetera quindi sta caricando tranquillamente io preferisco caricare molto lentamente perché la batteria ne risente meno e secondo me funziona anche c'è dura di più nel tempo la batteria bene signori se il video vi è piaciuto mettete un bel like se volete acquistare il prodotto vi lascio il link in descrizione qui sotto e attivate il tasto delle notifiche grazie a tutti e arrivederci